Sono vari gli approfondimenti proposti questa settimana dall'Amico del Popolo, per esempio sulla ghiacciaio della marmolada e la discussione aperta tra arabera e rocappietore sugli impianti che possono meglio servirla, oppure sulla gestione dei predatori, del lupo, dell'orso, del cinghiale, anche sul consumo del suolo in provincia di Belluno. La Giunta regionale ha infatti individuato comune per comune nella nostra regione il consumo del suolo da qui al 2050 che può essere urbanizzato, una norma che tende a ridurre il consumo del suolo per tutelare il nostro territorio e quindi per ogni comune bellunese abbiamo pubblicato la tabella degli ettari ancora disponibili e di quelli che potranno essere utilizzati. Saranno circa il 60% degli oltre 800 ettari disponibili in provincia di Belluno. Una normativa questa che non riguarda più Cortina e Ospitale che hanno già raggiunto il massimo utilizzabile e che per il momento non riguarda neanche Lorenzago, San Nicolò e Comelico Superiore che non avendo risposto al questionario predisposto dalla regione per realizzare appunto questo censimento, questa norma, per il momento hanno perso il diritto di poter utilizzare nuovo territorio per opere di urbanizzazione. Una tematica questa certamente importante e da tenere sott'occhio in una provincia come la nostra che fa dell'ambiente e del turismo una delle sue carte forti per lo sviluppo.